Ciao a tutti, oggi video un po' più particolare del solito perché andremo ad analizzare Pfizer e l'ultima trimestrale. Faccio questo video principalmente perché ho visto che vi piacciono particolarmente le azioni che rilasciano dividendi, quindi se avete piacere che io vada ad analizzare altre aziende che appunto rilasciano dividendi, fatemelo sapere con un commento e con un like. Per chi non lo sapesse, Pfizer ha fatto uscire un'oretta fa la trimestrale, il mercato non l'ha presa bene, infatti è in calo all'incirca di un 3%, e ora andiamo a vedere quali sono le principali motivazioni in attesa della conference call. Premetto che io non sono ferratissimo sull'azienda anche perché opera in un settore che mi è lontano e quindi mi è difficile andare ad analizzare alcune tematiche appunto del settore. Quindi ovviamente le mie previsioni prendetele anche come pinze perché alla fine del video vi farò vedere qual è la mia valutazione attuale. Prima di partire vi voglio fare una premessa ovvero che attualmente io ho metà della posizione in Pfizer perché metallo appunto l'ho venduta intorno ai 52 dollari perché ho visto che mi stava evolvendo la situazione per quanto riguarda il covid-19 e visto che parte dei fatturati di Pfizer sono aumentati anche grazie al covid-19 ho deciso di ovviamente utilizzando il mio modello di calcolo andare a vendere in metà posizione e l'ho fatto intorno ai 52 dollari. Se non ricordo male era giugno-luglio del 2022. Diciamo che mi è nata particolarmente bene la vendita però ho ancora a metà parte e devo decidere cosa fare di quest'ultimo. Considerate sempre che io sono in ottimo guadagno perché se non ricordo male il prezzo mio dovrei averlo intorno ai 30 dollari quindi sto cercando bene di capire cosa fare. Sono andato a leggermi un po' la trimestrale e principalmente vi ho segnato queste cose qua che secondo me sono le più interessanti da andare a vedere e soprattutto la cosa più importante è la guidance che secondo me è ciò che ha fatto scendere un po' Pfizer che ormai scende anche da parecchio tempo. Allora la prima cosa da andare a vedere è il fatto che l'utile operazione ha battuto le stime mentre i ricavi hanno mancato appunto le attese. Gli utili operazioni sono crescite addirittura del 44% quando riguarda l'EPS rettificato mentre i ricavi sono aumentati solo del 2% ma ci può stare anche perché la base comparativa era molto alta. Il discorso che vi stavo facendo prima è sul fatto che le vendite del vaccino di Pfizer contro il Covid che dovrebbe chiamarsi Comirnaty sono state pari a 37.8 miliardi di dollari che potenzialmente sono ricavi che nell'arco di 2 o 3 anni potenzialmente diventeranno un decimo. Pensate che la guidance sul fatturato di appunto di questo vaccino contro il Covid per il 2023 sono in calo già del 64% rispetto ai ricavi effettivi del 2022. Infatti le stime sono di una domanda intorno a 65 milioni rispetto ai 92 milioni di dosi del 2022. Stessa cosa vale per l'antivirale sempre legato al Covid-19 che si chiama Paxlovid che l'azienda prevede appunto di fatturare all'incirca 8 miliardi di dollari in calo del 58% rispetto a quelli del 2022. Capite che è un trend che non mi sta piacendo perché sì mi aspettavo un calo e infatti avevo anche venduto a 52 dollari ma non mi aspettavo un calo così marcato. La cosa che tra virgolette mi consola un po' è il fatto che secondo l'azienda escludendo i prodotti Covid-19 la crescita dei ricavi operativi dovrebbe essere all'incirca tra il 7 e il 9% per quanto riguarda il 2023. Però mi sembra un po' pochino considerando anche il fatto che l'utile operazione calerà e di tanto. Infatti ed è il discorso che facevo prima la guidance sui ricavi e sugli utili operazioni stimati per il 2023 sono nettamente sotto le attese degli analisti. Infatti Pfizer prevede di fatturare in circa tra i 67 e 71 miliardi di dollari per il 2023 e il consenso sarà 74 quindi tanto sotto le aspettative. E stessa cosa per quanto riguarda l'utile operazione che dovrebbe essere in circa tra i 25 e i 3,45 dollari contro i 4,38 del consenso quindi nettamente sotto le aspettative. Poi hanno anche avvertito che le vendite del settore primary care sono crescite al 7% quindi perfetto aggiungendo addirittura 17,35 miliardi di dollari che non è per niente male. Per quanto riguarda invece Eliquis che è appunto la terapia per la prevenzione dei coaguli di sangue sono diminuite dell'1% rispetto all'anno precedente aggiungendo all'incirca un miliardo e mezzo di dollari. Una cosa che ho visto che mi fa molto piacere è vedere l'aumento dei ricavi del franchising Pernard che appunto è il vaccino contro i primamococchi che sono crescite addirittura del 33% raggiungendo 1,74 miliardi di dollari quindi perfetto. Ci hanno poi detto anche che i ricavi del segmento oncologico sono diminuiti del 7% su base annua raggiungendo i 3 miliardi. Le vendite della terapia per il cancro al seno sono diminuite dell'8% su base annua e i ricavi per il trattamento del cancro alla prostata sono cresciuti del 5% su base annua. Però qua stiamo parlando sempre di percentuali di fatturato molto bassi infatti stiamo parlando di 320 milioni di dollari. A questo punto direi che possiamo andare a vedere la mia valutazione e vi dico anche quello che penso di fare appunto sulla mia posizione. Attualmente Pfizer ha una valutazione di 7,35 su 10 quindi una valutazione molto alta e questo tutto principalmente al fatto che ha molti molto bassi anche dovuti al fatto che l'incremento degli ultimi operazioni è stato molto elevato. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale abbiamo una situazione praticamente perfetta per un'azienda così grande che occupa in un settore come quello farmaceutico infatti addirittura 36 miliardi in cash contro debiti praticamente di 35 e considerando il settore in cui opera è veramente una situazione perfetta. Per quanto riguarda il conto economico anche qua ha raggiunto dei margini veramente stratosferici sempre in relazione al settore in cui opera e questo è dovuto principalmente al fatto che c'è stato il covid 2019 e Pfizer ha aumentato il suo free cash flow in modo esponenziale grazie alle vendite dei vaccini. Per quanto riguarda la situazione dei multipli la situazione anche qua è praticamente perfetta infatti è un price earnings di 8,5 quindi perfetto un price free cash flow di 10 e un earnings yield addirittura di 12. La situazione è peggiore nel momento in cui noi dobbiamo andare a stimare delle crescite guardando la situazione attuale per i prossimi tre anni. Attualmente io penso che l'utile per azioni dai 5-19 dollari attuali dovrebbe decrescere all'incirca di un 10% anno per i prossimi tre anni. Questo è dovuto principalmente al fatto che tutta la parte di utili e fatturato che Pfizer ha ottenuto nel 2022-2021 la perderà pian pianino. Per questo mi aspetto all'incirca un'utile per azioni di 3,58 dollari fra tre anni e un PE che potrebbe essere corretto per il settore in cui opera e per la crista che prevedo all'incirca di un 10%. Ovviamente io cerco di stare il più conservativo possibile ovvio dovesse crescere maggiormente i multipli potrebbero espandersi quindi io attualmente prevedo un prezzo tra tre anni di 37 dollari considerate anche però che attualmente Pfizer ha un dividendo del 3,77% questo vuol dire che dovesse arrivare anche solo a 30 dollari quindi dovesse scendere ancora un pelo a mio avviso potrebbe diventare molto interessante perché nel momento in cui scende aumenta il capital gain che posso fare e aumenta anche il dividend yield sul prezzo. A questo punto attualmente penso che un buon punto di ingresso potrebbe essere intorno ai 28-30 dollari dovesse ritornare intorno a quei valori lì molto probabilmente penso di voler rientrare in Pfizer detto questo fatemi sapere qua sotto nei commenti se siete d'accordo e niente ragazzi ci becchiamo al prossimo video ciao a tutti